Sono le Mosinieri del Santo Padre, sono Don Corrado. Sono stato quattro volte già in Ucraina. Ho visto la sofferenza della gente. Adesso fa freddo, non ce l'hanno il riscaldamento, non c'è il gas, non c'è l'elettricità. Proprio loro mi hanno detto che l'aiuto più importante per questo inverno sono le magliette termiche che possono tenere la temperatura corporea di ogni persona che fugge. Facciamo questo dono di Natale per il popolo ucraino. Compriamo queste magliette. Noi già abbiamo contattato tante fabbriche, ci danno grande sconto e possiamo mandare anche un tir più presto e subito a Kiev, a Zaporozh, a Odessa. Questo sarà veramente un Natale cristiano.